E' il campione olimpico per i Neos Grenadiers, Richard Carapazza! Ciao a tutti, belli! Siamo pronti ragazzi, siamo pronti, carichi! Devo veramente prendere l'emblema del Maimolar! Maimolar, Maimolar! Forza Negrar! Com'è Roby? Maimolar! Sempre carico, venti del pendola! Ragazzi, qua c'è Fungaspa, il boss, il ciclismo, saluta Pai Falla e Capitano, Maimolar! Direzione Foglio, firma, super accoglienza a Salò! Un contatto, ci ha procurato un pass e ora via in zona hospitality! Un contatto! Banca! E' un saluto proprio il suzzo dal capitano, Maimolar! Maimolar! Ha vinto il Giro d'Italia nel 2019, è il campione olimpico, signore e signori, per i Neos Grenadiers, Richard Carapazza! Mamma, mamma che accoglienza ragazzi, ma che accoglienza c'era qui al Giro, fantastica! Guarda, il papà è la flora! Guarda, il papà è la flora! Fanno 9 kg, non fatti la basso il gol! Non fatti la basso il gol! Eeeh... Guarda, il papà, il papà è la flora! Eeeh... Guarda, il papà è la flora! Ehi ragazzo! Cinque minuti! Ragazzi! Ragazzi, mi ha trovato un fan della barba di vedi del pendola! Maimolar! Maimolar! Forza Negrar! Due minuti! Guarda, guarda chi c'è qua! Maimolar! Ma bello! Siamo arrivati a un minuto alla via! One minute! Un minuto! Un minuto! Gli ultimi aggiornamenti del countdown! Tutti insieme! Dieci! Nove! Otto! Sette! Sei! Cinque! Quattro! Tre! Due! Due! Parte la sedicesima tappa del Giro d'Italia! Eeeh Davide! Maimolar! Edo! Allora ragazzi, oggi il mio compagno è Roberto Fracassi, il mio compagno del video. La partenza al salò l'abbiamo visto, sono appena partiti e ora direzione arrivo. Ma tranquilli, non andremo solo direttamente all'arrivo e poi trovo vari contenuti dentro. Un breve sosta par per un caffè. Allora Roby, come oggi sei l'ospite speciale per il mio video. O pronostico per i nostri atleti della policella. Formula o è in fuga? Come cosa farà? Può far bene oggi, può far bene. Cappuccino! Il capitano ragazzi da sempre dietro, i passi speciali. No, no, sì! Che classe ragazzi, che classe! Classe! Ci siamo dietro Roby, ci siamo dietro! Ci siamo dietro, ce l'abbiamo fatta! Roby, com'è, com'è, intervista? Com'è? Partate qui stamattina! Ragazzi sono qua con un fracasso, siamo all'ospital di la migliore che c'è al giro da Raffaello. Però sentiamo un buon montaggio, sentiamo disagio. Ma qua ti senti, cioè ti vedono come un superiore, no? E entri, tutta accoglienza, top! Ragazzi, holy quality, holy quality! Bellissimo, holy quality! Fantastico! Ma guarda qua che vita da VIP che fa Roberto oggi! Cibo, bere! Cosa vuoi di più? Fantastico! Tanta roba ragazzi, come dico sempre, holy quality! È arrivato il giro E qua, il nostro commentatore tecnico, Roby cosa ne pensi di questa giro E? Che va forte! Va forte! Non faresti anche te o neanche questa competizione? Beh, se mi invitassero sì volentieri! Subito, vai a volar! Ragazzi, ora è 16.30 di martedì, 24 maggio, il capitano ha raggiunto i 1000 iscritti, cosa ne pensi Roby? E guarda qua, 1000 iscritti e il millesimo iscritto è stato l'organizzatore ragazzi, uno degli organizzatori del Giro Italia, cosa volete di più? Ditemelo voi, complimenti! Numero uno! Sì, qui! 3 km! 3 km, c'ho agitato! Ieri dopo che poi mi fai gli altri è rinunciato, agitatissimi Agitatissimi ai 200 dall'arrivo, non ci sono più dubbi, si volta le scaglie, ma non ci sono più dubbi, è il momento degli applausi, è il momento degli applausi, ultimi 50 metri a vincere la sedicesima del Giro d'Italia, è un rider dell'Enterman. Che emozioni ragazzi, che emozioni. ...quanto Valverde, è lo spagnolo contro Indre, Indre al centro strada, Indre contro Valverde, Indre però, domani, continuazione assurda, 10 per la pazza, c'è Indre. Però, pensati Roby, se mi fosse spegnare un'altra pò, poteva fare anche mille giorni tardeggi. Eh sì, accordiani. Vai Roby! 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 Rob and the 생각! Guardate qua chi c'è ragazzi, maimola! Roccia, Davide! Davide e formolo! Ragazzi qua il capitano ha puntati ovunque, Siamo appena andati anche nella zona ospitale del Giro E Ossia il Giro d'Italia Con le bici elettriche Tutto questo grazie a Jacopo Rognoni Tappa finita Dove stiamo andando? Roby dove stiamo andando? Sono agitato Dai tuoi sosia Sono contentissimo Guardate l'affice Felice come un bambino Roby Sono felicissimo Nostra vita Roby come è stata questa giornata Grazie ai venti del Pendola A Guelfo A Padre Amos A tutti per la compagnia e per l'occasione Grazie Ciao a tutti Quando l'avventura Soprava essere terminata Siamo solo all'inizio invece E ha un piccolo inizio il Giro d'Italia Ma è molato Roby vieni qua Vieni qua E per concludere la giornata del Capitano Al Giro Cosa c'è qua? Ho trovato l'Arcobaleno Amazing ragazzi Amazing Fantastic Wow Amazing Roby Roby Amazing Oh Luca dove stiamo andando? Oh ma Luca allora perché abbiamo preso la felpa Perché un coach non è tanto organizzato Ed è venuto su in maniche corte con la maglia Maimolar Maimolar va bene però fino a un certo punto Volevo veramente prendere l'emblema del Maimolar Proprio il vero motivo del Maimolar Volevo farlo dimostrarlo Grazie a tutti Ciao Ciao Grazie a tutti